Bene, buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi. Io mi chiamo Roberto Fuccaro e mi occupo di educational, trading e investing in Fineco. Oggi, come ogni lunedì, andiamo a vedere quelli che sono i mercati finanziari, la settimana che è appena trascorsa sui mercati finanziari. Andremo a vedere sia i caratteri che sono stati o influenzato l'andamento dei mercati finanziari e poi andremo a vedere con l'ausilio dell'analisi tecnica quelli che possono essere i livelli più interessanti da monitorare. Come sempre vi informo che avete una chat a disposizione che potete utilizzare per farmi le domande che più ritenete opportuno e poi se questo webinar è registrato e quindi lo potrete rivedere nell'area formazione Fineco. Bene, direi subito di iniziare. Direi subito di iniziare a vedere quelli che sono stati i principali dati che sono usciti settimana scorsa, i principali eventi che hanno caratterizzato la settimana scorsa. Due sono stati quelli principali. Sono stati la Federal Reserve, quindi la riunione della Federal Reserve, che ha portato la Fed ad alzare per la decima volta consecutiva il tasso di riferimento, portandola al 5,25% e poi è seguita subito dopo la riunione di Jerome Powell, dove era quella più attesa dagli analisti, dai trader e dagli investitori. Perché? Perché ormai si vedeva anche dal sito del CMI, che fa vedere appunto quelle che sono le probabilità di rialzo dei tassi di interesse, ormai il mercato dava per scontato per il 98% di un rialzo dei tassi di interesse, il 5,25%. Quello che è stato detto però non è che sia tanto piaciuto agli investitori, almeno in quel momento infatti il mercato era arrivato a chiudere in territorio negativo. Quello che ha detto di Jerome Powell è stata che ci sarà una pausa, ok? Ci sarà una pausa nel rialzo dei tassi di interesse, quindi questi tassi di interesse per il momento rimarranno tali, al 5,25%. Però che cosa ha detto? Sicuramente non ha detto, quello che non ha detto è stato appunto quello che saranno le prospettive di quando saranno tagliati questi tassi di interesse, ma ha avuto un tono molto da falco piuttosto che da colomba. Un tono da falco perché ha detto che dobbiamo tenere monitorato quelli che sono i dati macroeconomici che arriveranno, come l'inflazione come l'inflazione e come anche il mercato del lavoro e come anche il rallentamento che c'è in questo momento sul PIL, sul prodotto interno lordo americano e che può portare poi a delle decisioni macroeconomiche, decisioni scusate di politica monetaria, che potrebbero poi far variare questi tassi di interesse. Quindi attenzione alla inflazione, ok? L'inflazione il cui dato uscirà mercoledì di questa settimana e soprattutto al mercato del lavoro, ok? Mercato del lavoro il cui dati sono usciti settimana scorsa e vede ancora un tasso di disoccupazione ancora molto basso, cioè pari al 3,4%. Ed è un tasso di disoccupazione che in questo momento ci fa vedere ancora come il mercato del lavoro sia molto forte, sia molto forte. Anche i dati sulle nuove assunzioni sono stati molto forti, circa 221.000 nuovi assunti nei vari settori nel mese di aprile. Quindi di conseguenza questo ci fa vedere che il mercato del lavoro è ancora molto forte. I dati sulla CP, cioè sull'inflazione, usciranno questa settimana. Vi faccio vedere quello che è il grafico dell'inflazione che ho scaricato dal Wall Street Journal. E come possiamo vedere, vediamo come la direzione dell'inflazione, dell'andamento dell'inflazione, sia quella corretta. Anche se, ripeto, come dico in qualsiasi altro webinar che ho fatto, quella che la Fed guarda più da vicino non è quella all items, cioè quella con tutte le componenti, quindi anche quelle alimentari o quelle energetiche, ma guarda quella core, cioè quella depurata dalle componenti energetiche e dal food, quelle alimentari. Perché? Perché sono più volatili. Guarda quella core. E quindi di conseguenza vediamo che l'andamento è quello giusto, cioè quello di un ritorno verso il target del 2%. Ma quella core vediamo che ha un andamento molto lento. E quindi di conseguenza se viene confermato questo andamento molto lento, quindi questo ritorno molto lento al target del 2%, è molto probabile anche che da qui ai prossimi mesi o addirittura anni non ci potrà essere un taglio dei tassi di interesse. Ci sarà un riadeguamento magari in base a quello che l'inflazione raggiunge, ma un taglio drastico in questo momento, vista la situazione che c'è sul mercato del lavoro, ripeto, e sull'andamento dell'inflazione molto lento nello scendere e nella riadeguarsi al target del 2%, è ancora poco plausibile. Va bene? Quindi facciamo attenzione a questo dato che uscirà mercoledì. L'altro evento che ha caratterizzato settimana scorsa è stata la riunione della BCE, che ci vede un po' più da vicino. La riunione della BCE che ha portato i tassi al 3,75%. E che cosa ha detto Lagarde? La Lagarde anche essa ha affermato, ha avuto dei toni da falco, dove ha detto, attenzione, che a differenza della Fed, dove abbiamo detto che interrompe per il momento il rialzo dei tassi di interesse, Noi non ce lo possiamo ancora permettere. Quindi ci sarà un rallentamento del rialzo dei tassi di interesse. Ma attenzione, non ci sarà una pausa. Un rallentamento che cosa vuol dire? Vuol dire che i tassi, il prossimo aumento dei tassi di interesse sarà di 0,25%. Quindi ha detto, ha escluso che ci saranno i prossimi rialzi di 0,50%, ma ci saranno comunque di 0,25%. Cristi Lagarde, come vi dicevo, ha utilizzato dei toni un po' da falco, proprio perché ha detto che l'outlook, cioè le previsioni di quelle che sono le inflazioni, rimangono ancora molto alte, ancora molto rischioso interrompere in questo momento il rialzo dei tassi di interesse. Quindi outlook CPI ancora molto alto. Tenete presente anche una cosa. Dobbiamo tenere presente che questo inizio del rialzo dei tassi di interesse, quindi questa politica monetaria restrittiva, la BCE l'ha iniziata molto tempo dopo rispetto all'America. E quindi di conseguenza ci troviamo, la Banca Centrale Europea si trova ancora qualche passo indietro nella lotta all'inflazione. E ci troviamo ancora con un'inflazione che continua a salire nella zona euro. In Italia, in Spagna, l'abbiamo visto anche in Germania, che inizia ad essere anche più problematica. E quindi la BCE e Cristi Lagarde affermano che non ci potrà essere una pausa del rialzo dei tassi di interesse. Va bene? Questo cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare un differenziale dei tassi che si assottiglia. Ripeto, la BCE al 3,75%, la Fed è al 5,25%. Questo differenziale si può assottigliare, ripeto. E da dove lo stiamo vedendo? Lo stiamo vedendo con l'andamento dell'euro-dollaro. Se noi guardiamo l'andamento dell'euro-dollaro, andiamo subito sull'euro-dollaro, che cosa notiamo? Notiamo che il mercato aveva già anticipato questo assottigliamento, proprio perché i mercati anticipano quello che saranno le mosse future, in questo caso, delle banche centrali. E quindi quando qui il mercato aveva scontato una Fed più aggressiva rispetto alla Banca Centrale Europea, qua invece il mercato sta scontando una Fed che interrompe questo rialzo dei tassi e una BCE invece che continua ad alzare i tassi. Si prevede che possa arrivare ad un 4,25%, ad un 4,50% la BCE, però, ripeto, dipende tutto da quello che sarà l'inflazione. Intanto l'euro-dollaro continua ad essere laterale negli ultimi settimane, quindi sembra che l'area degli 1,10% sia un'area molto fatta di resistenze, quindi fatta da venditori e, come possiamo vedere, qui il mercato stenta a salire. Mettiamo anche le medie mobili per capire meglio com'è l'andamento di breve, medio e lungo periodo. Che cosa vediamo? Vediamo che il mercato si è avvicinato molto alla media mobile a 20 periodi. Vedete che prima faceva da supporto dinamico, è pronto a rompere a ribasso questa media mobile, però vediamo che è al di sopra sia della media mobile a 120 che sulla media mobile a 200 periodi. Sta di fatto che, ripeto, l'area degli 1,10,40 o 1,10,50 è un'area ancora fatta da venditori. La possiamo contrassegnare con questo rettangolo con questo rettangolo e vediamo appunto che queste ombre qui sopra ci dicono appunto che il mercato quando prova a salire ci sono venditori che riportano giù questo cambio. Stessa cosa è successa qui, stessa cosa è successa qua, quindi vedete 1, 2, 3, 4, 5, 6 volte che accade, quindi statisticamente è confermata che quella è una zona da monitorare. Va bene? Un andamento laterale che lo stiamo vedendo anche sui vari listini, lo stiamo vedendo anche in Europa con il nostro Fuzzimib, un andamento laterale che ha contrassegnato sia le prime settimane del mese di maggio che le ultime di aprile. Che cosa vediamo? L'ultimo webinar che abbiamo fatto avevamo visto appunto che il mercato stava facendo una falsa rottura e quando ha fatto questa falsa rottura abbiamo detto che bisogna stare attenti perché siamo con un mercato tiratissimo che si trova su una resistenza importante che la vediamo anche su un time frame di più lungo periodo, di più lungo periodo, quindi ci troviamo davvero su resistenze di lungo periodo e le resistenze di lungo periodo sono molto difficili da superare e soprattutto perché poi ci trovavamo anche in una zona di ipercomprato scusate, scendo a due anni per andare di nuovo sul giornaliero, in una zona di ipercomprato molto forte. Quindi come possiamo vedere qui c'è stato il false breakout, qui c'è stata questa presa di liquidità che ha portato il mercato a scendere, ritestare e poi di nuovo scendere. Avevamo individuato anche come area di prima area di demand questa zona qui, questa zona qui, che bene o male ha sentito. Ha sentito, vedete, l'aveva sentita qua, l'ha sentita qua, l'ha sentita bene o male qua e poi è ripartita. Sta di fatto che, andiamo a mettere le nostre medie mobili, sta di fatto che sul breve e sul lungo periodo il trend non è cambiato, rimane ancora un trend rialzista. Rimane. Rimane ancora un trend rialzista. Mettiamo anche questa trend line che potrà accompagnare questo movimento. e vedete che qui ci troviamo con una struttura con dei massimi e dei minimi rialzisti. Massimi e minimi rialzisti. Quello che noi però dobbiamo andare a vedere è anche la microstruttura. Vedete che all'interno di una struttura ce ne sono alcune ancora più piccole, che sono quelle di breve periodo. Quindi, se noi ci focalizziamo, ad esempio, su tutta questa struttura, cioè su tutto questo rialzo, vedete che all'interno ci sono stati dei mini piccolissimi ritracciamenti. e di conseguenza questi possono essere presi in considerazione come livelli di struttura. Ora, se noi andiamo a vedere qua, che cosa notiamo? Abbiamo detto che sul lungo medio periodo il mercato continua ad essere rialzista. Sul breve periodo, ed è confermato anche dalla media mobile di 20 periodi, è iniziato ad essere un po' ribassista, perché ha rotto quest'area, ha rotto quest'area, questo minimo. Vedete che questa ultima struttura era fatta in questa maniera. Rialzo, ribasso, 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 rialzo. Questo minimo era il nostro, quello che chiamano change of character, cioè il cambio di struttura, che è stato rotto, è stato rotto con questa candela, ok? Ed è stato confermato, quindi la candela ha rotto sotto, è andata sotto questo minimo, ha confermato in chiusura la rottura di questo minimo, e di conseguenza qui il mercato sembra nel breve periodo essere ribassista. Ovviamente ora, che cosa succede? Succede che c'è un rimbalzo. C'è un rimbalzo perché le forze che, diciamo, stanno governando in questo momento sul mercato sono di lungo periodo. Però attenzione quando succede una cosa del genere. Punto primo, se operate di breve termine, dovete ovviamente andare a vedere un po' quella che è la struttura di breve termine, ok? Mentre per quanto riguarda il lungo periodo, rimaniamo ancora rialzisti, e quindi andiamo a trovare quelle che possono essere quelle zone in cui si può ricominciare a comprare. Sta di fatto che se guardiamo nel breve periodo, dobbiamo stare attenti alla zona che abbiamo visto qui. Quindi il mercato potrebbe continuare ancora a salire, arrivare in questa zona, e qui trovare venditori che portano di nuovo giù il mercato, facendo magari un test intorno a 26.000 punti. Va bene? Ok? Quindi vedete come nell'analisi dei diversi trend, questo ci permette di capire come il mercato si potrebbe muovere nel breve periodo, ma anche sul lungo periodo, ok? Ripeto, abbiamo individuato un trend rialzista di lungo periodo, però attenzione che nel breve, visto anche quelli che sono i dati macroeconomici, visto anche quello che è in questo momento la struttura di mercato, il mercato potrebbe fare questo movimento e poi andare a trovare di nuovo compratori intorno a area 26.000 punti. Ok? Tutto chiaro? La rottura del minimo precedente però non c'è stata sul future del Futsimib. Come interpretare? La si può interpretare comunque che è sull'indice, perché in questo caso sulle rotture è l'indice che comanda, ok? Quindi è l'indice che è composto dai vari panieri di azioni, in questo caso parliamo di azioni italiane e di conseguenza se c'è stata questa rottura poi il future in base a quello che sarà l'andamento dell'indice si dovrà adeguare, gli arbitraggisti dovranno adeguare l'andamento del future, va bene? Quindi facciamo attenzione soprattutto all'area dei 27.950 punti, ok? Guardiamo anche gli indici europei, tipo ad esempio il DAX. Il DAX, bene o male, vediamo che ha rotto l'area dei 15.000 punti, che avevamo visto essere un'area importante e che stava facendo da resistenza, ha rotto e questa parte qui, tolgo un attimo questa perché altrimenti non riesco a fare, ok. Questa parte qui ora sta facendo da supporto, mettiamo le nostre medie mobili, vediamo che i mercati sono al di sopra di tutte le medie mobili, però che cosa vediamo? Vediamo che la struttura di mercato, facendo riferimento a quei concetti che abbiamo visto prima, rimane rialzista, ok? La rottura di questa resistenza però non ha portato ad un movimento molto forte al rialzo, quindi segno che qui i compratori non sono così tanto convinti di portare il mercato ancora al rialzo. Ci troviamo su questo ultimo canale nella parte alta, quindi facciamo molta attenzione all'area dei 16.000 punti, ok? 16.000 punti che potrebbero confermare essere un'area di resistenza e quindi riportare il mercato intorno a 15.750 punti o ritornare di nuovo in questa zona qua, va bene? La zona di demand, quindi la zona di domanda, quindi dove si possono trovare i compratori, potrebbe essere questa zona qua, intorno ai 15.550 punti. Come si fa ad individuare? Si prende l'ultima candela, diciamo, di colore opposto a quello che è il movimento che c'è stato, in questo caso questa candela è di colore opposto, cioè l'ultima candela dove c'è stato il ribasso, che ha fatto scattare gli acquisti e ha portato a questo ulteriore rialzo, va bene? Quindi in questo caso qua, qualora il mercato dovesse fare questo e poi questo, qui potrebbe trovare i compratori. Ok? 15.550 punti. Questo per quanto riguarda il DAX. Andiamo a vedere quelli che sono anche a livello di obbligazionario e anche a livello obbligazionario stiamo vedendo una fase di stasi, una fase di lateralità. Quindi gli operatori non sono, non solo sul mercato azionario, non sono convinti di quelli che sono l'andamento e di quello che sarà la direzione, ma non sono neanche convinti sulla parte obbligazionaria, nonostante quelle che sono state le parole di Fed e BCE. In questo caso qui vediamo proprio come il Bund dopo una discesa drastica dai 180 a 170 punti si sia fermato intorno ai 130-140 punti e vediamo appunto che rimane in una fase laterale. laterale con una resistenza intorno ai 140 punti e un supporto intorno a area 131, 131 e 40, 131 e 0,8. Quindi 131, 131 e 0. e anche qui vediamo che nell'ultima fase si sta un po', vediamo proprio una figura che ci permette di capire che la volatilità si sta comprimendo ecco qua. Ok? Quindi non solo abbiamo una fase direzionale praticamente assente perché siamo in una fase laterale, ma ci troviamo a vedere anche le oscillazioni che piano piano diventano sempre minori, quindi la volatilità piano piano si comprime. E attenzione a questo, perché cosa vuol dire? Come l'abbiamo visto nelle precedenti puntate e in alcune fasi di mercato, la volatilità che si comprime ci suggerisce che ci sarà un movimento forte futuro. Quindi gli operatori sono lì alla finestra a guardare che cosa potrà accadere. Magari ci potrà essere ancora qualche annuncio da parte delle banche centrali, ci potranno essere dei dati macroeconomici che potranno sorprendere quelle che sono le aspettative degli investitori, degli operatori, un'inflazione che continua ancora a crescere. Ci possono essere varie variabili che possono portare a far esplodere questa molla e quindi avere poi un movimento direzionale. Va bene? Vediamo anche il BTP. Il nostro BTP, come potete vedere, ancora peggio. Oltre a non avere più una fase direzionale, perché siamo in una fase laterale, i movimenti sono minimi e quindi anche qui ci troviamo in una situazione in cui c'è tanta attesa da parte degli operatori. Va bene? Vi chiedo se è tutto chiaro e se ci sono domande prima di continuare. Perfetto. Ok. Passiamo all'America. Passiamo all'America con lo Standard & Poor's 500. Allora, che cosa abbiamo detto dell'America? Avevamo detto tutta quella che è la parte della Fed con Jerome Powell che dichiara la pausa del rialzo dei tassi di interesse, ma attenzione perché in America non c'è solamente la Fed sotto i riflettori. Ma ci sono altre due cose da tenere in considerazione. Due cose. La prima è quella che è la crisi delle banche regionali. Questa crisi che continua ad andare avanti e quindi siamo in una fase di volatilità delle piccole, medie banche che ovviamente stanno vedendo un deflusso da parte dei correntisti per andare a rimpolpare i bilanci e soprattutto le casse delle grandi delle grandi banche. Abbiamo visto l'ultima operazione che c'è stata dove JP Morgan ha rilevato alcune attività ovviamente quelle più sane di First Republic e quindi sembra che ci sia un po' una sorta di una sorta di deflusso una sorta di sia appunto di deflusso da parte dei correntisti che hanno conti correnti aperti in queste piccole banche per andare verso quelle grandi banche ok che cosa succede quando io ho un conto corrente in una piccola banca e vedo che le sue diciamo concorrenti che hanno bene o male le stesse condizioni vedo che iniziano ad avere dei problemi allora mi inizio a domandare anch'io se dove ho il conto corrente posso possano avere problemi e quindi di conseguenza anticipo chiudo il conto oppure bonifico già verso l'esterno e questo comporta comunque una nonostante comunque le queste banche possano non avere problemi a livello societario comportano poi una un deflusso ripeto di soldi che vanno ad alimentare quelle che sono le grandi banche JP Morgan ci sarà anche Goldman Sachs Bank of America e tutte le altre grandi banche quindi attenzione a questa crisi delle banche regionali che comunque è una crisi molto circoscritta non è una sorta di niccia che si è accesa ma che rimane circoscritta all'interno del sistema finanziario americano e soprattutto poi stiamo vedendo che non c'è una crisi sistematica i soldi da una parte stanno andando presso le altre banche più grandi va bene l'altra cosa da tenere monitorata è la la crisi del debito ora non possiamo parlare di crisi scusate ho usato una parola molto forte però in Italia scusate in America in questi giorni si sta riuniendo tutto quello che è il Parlamento e tutto quelli che sono la Casa Bianca insieme al Presidente John Biden per decretare questo aumento del tetto del debito americano come ogni anno ci troviamo in questa situazione qua in questo periodo di tempo in questo periodo dell'anno intorno a maggio e giugno in cui l'abbiamo visto anche all'epoca di Trump o all'epoca di Barack Obama in cui c'è questa dichiarazione di aumento del tetto del debito pubblico e di conseguenza ci troviamo con questi riflettori puntati su questo tema che diventa molto importante perché perché se si decide di non alzare questo tetto questo limite al debito pubblico americano c'è diciamo una situazione in cui la Fed o comunque il governo americano non può più stampare debito e quindi di conseguenza si ritrova un po' limitato nelle sue attività questo che cosa comporterebbe comporterebbe delle grandi ripercussioni delle grandi ripercussioni che possono portare anche ad avere una Fed che dovrà decidere un po' che cosa fare se diminuire o se finanziare momentaneamente il governo o fare qualcosa a livello di politica monetaria questo questo evento è un evento che diciamo ci accompagnerà per tutto il mese di maggio perché la deadline è la prima settimana di giugno ok quindi come sapete le decisioni politiche non avvengono in una notte avvengono con diverse puntate e quindi sarà un tema che ci accompagnerà per il mese di maggio al momento sul mercato gli operatori stanno lì sono lì a monitorare quello che potrà che sono le varie riunioni oggi se non sbaglio si riuniscono ancora per decidere e di conseguenza vediamo vedremo che cosa deciderà se diventerà così grande così grande che il mercato inizierà a tenerlo in considerazione nei loro prezzi oppure se ci sarà poi un accordo che porterà il mercato a non guardare più e a non monitorare più questo evento che cosa vediamo vediamo qui che il mercato dello standard in pur 500 ci mettiamo anche qui le medie mobili vediamo che il mercato dello standard in pur 500 dopo una struttura ribassista inizia ad essere in una fase più che più che altro laterale ok più che altro laterale perché vediamo che qui abbiamo avuto dei massimi e dei minimi al rialzo però dopo questa struttura quindi se ci si aspettava una risalita così non è stato i massimi scusate i minimi sono ritornati nella stessa zona quindi da considerare l'area dei 3.750 punti un'area di supporto o di demand zone come la volete chiamare voi e vediamo che il mercato tende ad avere un andamento più che altro laterale va bene più che altro laterale i massimi che noi stiamo vedendo sono dei massimi che sono allo stesso livello allo stesso livello dei massimi precedenti vediamo quindi l'area dei 4.152 punti 4.200 punti come un'area di resistenza e quindi di conseguenza vedete che ogni volta che entra qui in questa zona ogni volta che entra qui in questa zona il mercato praticamente rimbalza e ridiscende a livello di struttura di breve termine vediamo che il mercato la media mobile è praticamente flat è praticamente piatta e quindi si presuppone anche una fase di lateralità nel breve periodo staremo a vedere come si comporterà se ritornerà intorno all'area 4.200 punti oppure se scenderà e romperà l'area dei 4.000 fatemi prendere il mirino 4.000 punti ok 4.062 punti se rompe quest'area qui se rompe quest'area qui vuol dire che a livello di struttura di breve periodo parlo di breve periodo potrebbe continuare con la sua discesa quindi cambierebbe la struttura di breve periodo e diventerebbe ribassista la struttura di lungo periodo cambierebbe solo ed esclusivamente qua sotto sotto i 3.750 punti ok quindi ripeto siamo in una fase laterale siamo in una fase laterale a livello di breve sul breve periodo se rompe l'area dei 4.000 punti potrebbe diventare ribassista se rompe anche questa zona qua allora qui il mercato continuerà ad essere anche nel lungo periodo potrà essere potrà avere una struttura ribassista va bene viceversa se il mercato dovesse rompere definitivamente quindi qua rompere e voglio qui una chiusura settimanale al di sopra dei 4.200 punti allora il mercato avrebbe avrebbe una struttura rialzista e quindi potrebbe poi ricominciare la sua salita va bene quindi le due ipotesi sono queste anzi le tre ipotesi possono essere queste fase laterale se rompe l'area dei 4.065 punti struttura ribassista nel breve periodo con target intorno aria 3.750 punti se rompe invece 4.200 punti con chiusura settimanale quindi chiusura weekly allora il mercato potrà continuare con la sua salita va bene quando facciamo le analisi noi ovviamente non possiamo non possiamo limitarci nella nostra analisi ad una sola ipotesi il trader fa delle ipotesi e in base a quella che si avvera segue quell'ipotesi ok quindi la pianificazione della propria giornata di trading deve avvenire così e di conseguenza poi una volta che si è davanti allo schermo e i prezzi faranno prenderanno una di quelle due o tre ipotesi che si sono studiate si applica il piano che si era preparato va bene questo per quanto riguarda lo standard in PUR 500 per quanto riguarda il Nasdaq invece vediamo ancora sul Nasdaq una continuazione del trend rialzista attenzione perché qua dopo la rottura di questo massimo qui il mercato non è salito così tanto ha fatto un piccolo test proprio vicino a quella che era una resistenza che poi è diventata supporto e adesso sta di nuovo risalendo però come possiamo vedere come possiamo rivedere l'aria che c'è intorno 13353 punti sta facendo da resistenza ok la vediamo qui che ha fatto da resistenza la vediamo qui che ha fatto da resistenza la vediamo qui 3 4 volte quindi attenzione a quest'area va bene attenzione a quest'area se dovesse rompere quest'area ci sarebbe già ancora un'area di più lungo periodo molto forte che potrebbe contrastare ancora la salita e questa è il massimo del agosto 2022 quindi circa il massimo di un anno fa ed è anche il ritracciamento del 50% di fibonacci di tutta questa discesa quindi qualora il mercato dovesse avere forza nel breve periodo a salire il Nasdaq troverebbe delle forze ancora più forti ok quindi qui il mercato potrebbe fare questo per poi invertire la rotta prima ipotesi se invece il mercato dovesse decidere che questa è una resistenza potrebbe ritornare intorno alla zona di demand che è questa zona qua intorno area 12.720 punti quindi questo questo oppure questo e poi questo se dovesse rompere invece definitivamente qui vorrei più una chiusura weekly una chiusura weekly di questa parte qui di questo minimo qua allora il mercato potrebbe continuare a scendere intorno area 12.000 punti ok 12.000 punti dove troverebbe quest'area di demand molto importante va bene quindi ripeto prima ipotesi rompe i 13.300 punti però si scontra contro la resistenza di lungo periodo e poi ridiscende seconda ipotesi non non ci prova neanche a salire ma scende direttamente e si scontra con questa zona di demand se dovesse rompere anche questa zona di demand allora il mercato potrebbe arrivare intorno area 12.000 punti ok se dovesse altre ipotesi rompere questo e poi anche questo allora continuerebbe almeno fino al 61.8% di fibonacci che corrisponde intorno area a 14.200 punti ok però attenzione perché ripeto stiamo entrando in una fase in una stagione che inizia ad essere un po' priva di tanti movimenti mancano poche società a mostrare le a mostrare le loro trimestrali tenete conto che la maggior parte quelle più importanti le hanno già mostrate l'ultima è stata proprio apple settimana scorsa che è salita del 4% e quindi diciamo che la stagione delle trimestrali ha dato già il suo contributo in quelli che sono i movimenti di mercato quello che ora è mercato si aspetta e sono appunto guardare da vicino i dati macroeconomici come quello sull'inflazione che ci sarà mercoledì questo mercoledì ok questo per quanto riguarda anche il nasdaq Dow Jones bene o male siamo alla stessa identica situazione fase laterale qua aveva provato a rompere ma ha fatto in modo che qui ci sia un forte supporto che ha riportato sul mercato però vedete che questa zona qua è da segnare perché è una zona molto densa di venditori molto densa di venditori ok vedete come questa demand zone che avevamo scusate questa supply zone quindi questa zona di venditori sia stata confermata anche qua nell'ultima settimana e vediamo che ora il mercato pro sta tentando di ritornare di nuovo qui va bene questa invece era stata anche bene o male sentita la sfiorata però vedete che l'individuazione di zone ci permette di vedere dove il mercato potrebbe fare qualcosa ok quindi anche sul mercato americano eh trader investitori in attesa in attesa di un qualcosa in attesa che qualcosa succeda che possa innescare la direzione ok siamo attenzione però davanti a delle resistenze molto importanti sia nell'ambito europeo sia nell'ambito soprattutto nell'ambito europeo ma anche nell'ambito sui mercati americani quindi affinché il mercato eh possa superare queste queste resistenze deve succedere qualcosa di grande ok e qualcosa di grande al momento all'orizzonte non si vede vediamo un attimo le materie prime materie prime con il crude oil cosa vi dicevo l'ultima volta che ci siamo visti l'area dei 65 dollari è un'area fortemente popolata da compratori e infatti come possiamo vedere il mercato questa volta di nuovo ci è tornato false breakout ce lo segniamo false breakout è mercato che è mercato che riprende la salita riprende la salita e continua a salire quindi ci troviamo anche con un mercato del petrolio in fase di lateralità ha tentato di ritornare giù ma l'area dei 65 dollari è un'area di compratori e ora sta ritornando di nuovo intorno magari l'area degli 80 dollari area degli 80 dollari che è un po' il contrario dell'area dei 65 dollari perché è un'area di resistenza è un'area di resistenza quindi ci possiamo aspettare anche sul mercato del petrolio una fase di lateralità ok andiamo sul gold e andiamo sul gold e che cosa vediamo sul gold sul gold vediamo appunto come il mercato siamo due anni vediamo come il gold sia ritornato sui massimi storici ha sfiorato per l'ennesima volta anzi c'è stato pure un bellissimo false breakout sulla resistenza su questi massimi qua un false breakout su questa resistenza qui e poi il mercato è sceso l'oro è uno strumento che in questo periodo sta prendendo molto piede perché perché se il mercato non dà tante sicurezze se il mercato azionario non dà così tante sicurezze e fa vedere che appunto c'è una fase di lateralità dove gli operatori sono un po' indecisi c'è incertezza sul mercato azionario sul mercato obbligazionario ormai anche i rendimenti rimangono quelli ecco che l'oro con questa fase di incertezza e con dei rendimenti che rimangono al palo prende diciamo il sopravvento e quindi viene comprato dagli operatori che vogliono eggiarsi vogliono coprirsi da quello che potrebbe essere il rischio di eventuali tempeste sui mercati azionari e di conseguenza quindi il mercato dell'oro ricomincia a salire questo false breakout che lo vediamo sul giornadiero ma lo vediamo anche sul settimanale il settimanale vedete che ancora meglio ci fa vedere queste ombre che ci parlano un po' di incertezza ancora sui mercati quindi facciamo se abbiamo dell'oro facciamo attenzione a questa parte qua sul breve periodo ci possiamo aspettare che la rottura di questo livello la rottura di questo livello potrebbe portare ad un ad una discesa dell'oro intornare a 1850 dollari e ci segniamo altrimenti potrebbe stazionare ancora tra i 2000 e i 2050 dollari va bene ok infine ma non meno importante la Cina la Cina che con la sua bilancia commerciale ho detto che l'avrei cambiato ma non l'ho fatto allora facciamolo insieme ok no non allora facciamo così scusate andiamo sul sito e lo prendiamo dal sito ok quindi andiamo quindi andiamo nella sezione mercati e trading andiamo nella sezione market view indici e andiamo su Asia andiamo su Asia prendiamo il FTSE China ok ce lo esportiamo in pop up così lo riusciamo a vedere meglio facciamo a due anni e lo facciamo a candela ok allora che cosa vediamo sulla Cina sulla Cina vediamo che c'era stato questo trend in discesa questo trend in discesa che in questo momento sembra essere finito mercato sta sta accumulando intorno a aria 13.000 punti oggi vediamo una sessione positiva proprio perché sono usciti i dati sulla bilancia commerciale dove vede di nuovo una Cina forte nelle esportazioni quindi nel breve periodo la rottura dei 13.500 punti potrebbe innescare una salita intornare a 14.000 punti se dovesse rompere i 14.250 punti che rimane il punto importante nel lungo periodo allora ci possiamo aspettare anche una risalita nel medio-lungo periodo ok altrimenti qualora dovesse ritornare sotto i 12.750 punti allora potrebbe continuare con la sua discesa va bene questo per quanto riguarda la Cina bene allora se avete domande provo a rispondere alle vostre domande ok c'era stata una domanda all'inizio di questo webinar dove mi era stato chiesto gradirei che possa analizzare grafici con trendline di BPR BPM Unicredit per poter verificare la mia corretta impostazione di canale trendline sono per conferma degli studi di tendenza grazie allora proviamo a vedere quindi intanto chiedo se alla persona che mi ha fatto questa domanda se si riferisce a questi grafici giornalieri ok ok allora intanto prendiamo BPM mettiamola a due anni ok perfetto giornalieri allora che cosa vediamo qua vediamo che anche qui il titolo BPM è in una fase laterale molto volatile ok vedete che qua aveva cambiato la sua struttura la sua struttura di breve periodo che era diventata di nuovo ribassista qua l'ha cambiata di nuovo portandola ad essere rialzista ritornando qui allora se qua dovesse rompere definitivamente allora dobbiamo rivedere un po' quelle che sono le nostre aspettative anche sul lungo periodo perché la rottura qui di questo livello potrebbe dare conferma che questo sia un doppio massimo e quindi il mercato di BPM scendere almeno di nuovo intorno a 2,25 euro questa trendline è stata ormai breccata possiamo dire che adesso la faccio bene questo minimo allora questa trendline ormai è stata breccata io non la terrei più così tanto in considerazione sia adesso la sta un pochino testando però vedete che è perché ci sono altri livelli oltre a questa che tengono un po' al palo questo strumento che è questa parte qua qua c'è stato uno spike uno spike che ha portato di nuovo i prezzi a ritornare su questi livelli però come potete vedere quando entra in questi livelli qua il mercato poi il mercato poi tende a ridiscendere vedete questa è una supply zone individuata vedete qua mercato che scende ritorna su e ridiscende stati fatto quindi che bpm sembra quasi una fase laterale molto molto volatile ripeto la rottura dei 325 potrebbe portare ad una ad un cambio di struttura va bene questo per quanto riguarda bpm per quanto riguarda invece unicredit 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 vediamo proprio anche qui bene o male la stessa cosa qua c'è stata una false un false breakout false breakout un po' unicredit abbastanza strutturato vedete che il mercato ha provato poi è sceso ha riprovato e poi è disceso mercato che poi ha ricevuto le trimestrali che sono andate bene e che si è fermato intorno aria 18 euro ora il mercato potrebbe riprovare a ritornare intorno a quest'area qua quest'area di supply zone e se dovesse entrare qui allora bisogna vedere un po' il suo comportamento potrebbe poi ritornare di nuovo intorno all'area 18 euro l'area di 18 euro in questo momento è un'area laterale di accumulazione quindi mi fa ben sperare che qui compratori abbiano fatto un po' di man bassa per dare forza e superare questo livello staremo a vedere staremo a vedere perché quando parte da troppo sotto senza una fase laterale e arriva sui massimi di sempre tendenzialmente tende poi a ritracciare affinché ci sia una rottura bella forte ci deve essere una fase laterale questa è una fase laterale non troppo grande però che potrebbe essere propedeutica ad una salita sopra 19 euro vediamo un po' cosa ci dirà l'altra era Biper come guardare gli stessi grafici comunque proprio tutto il settore bancario che si è si è un po' fermato ecco si è un po' fermato si è un po' fermato il rimbalzo da qua non è riuscito non è riuscito a tornare sui massimi che aveva qui quindi attenzione perché sembra che il mercato voglia ritornare intorno a 2,25 euro per Biper va bene quindi un po' tutto il settore bancario ma lo vediamo proprio in tutto il Fuzzimib che il Fuzzimib diciamo è un un indice prettamente bancario in una fase di lateralità molto volatile rispetto a quelle che sono le altre azioni però una fase una fase laterale vedete anche in Tesa San Paolo bene o male rimane fermo al palo tra i 2,50 e i 2,25 va bene allora andamento euro-dollaro l'avevo fatto vedere all'inizio delle analisi ma lo faccio rivedere quello che vi dicevo era che l'area degli 1,10 è un'area fortemente popolata da venditori vedete che quest'area qua ogni volta che prova a salire viene subito ributtata giù viene subito ributtata giù e di conseguenza il mercato tende a far fatica a salire visto come si sta conformando come si sta strutturando questo grafico affinché ci possa essere una rottura definitiva intorno all'area dell'1,10 deve accumulare un pochino qua sotto ok deve accumulare un pochino qua sotto con una cosa del genere mi viene più da pensare che il mercato sia fermo sotto e sopra l'area degli 1,10 ma dipende anche da questo differenziale dei tassi che si sta piano piano avvicinando va bene si sta pian piano avvicinando bene se non ci sono altre domande direi che vi mostro perfetto allora io vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione mi chiedono Saras allora all'ultimo mi hanno chiesto Saras faccio l'ultima e poi Saras è ritornata su un livello molto importante c'è stata una bella discesa allora a livello di a livello di struttura sembra essere cambiata perché la rottura di questo massimo qua scusate di questo minimo qua ha portato ad un cambio strutturale del mercato il mercato è arrivato su una zona di supporto importante una zona di supporto importante che è questa questa fase di accumulazione che sta portando ancora il mercato a rimbalzare ora questo rimbalzo vedete che questa è stata una discesa molto forte e lineare quindi il rimbalzo potrà essere ancora diciamo che non si fermi c'è probabilità che non si fermi qui il target di questo rimbalzo potrebbe essere intorno a area 1,30 ok dove c'è stato appunto questo cambio strutturale quindi il mercato se rimbalza il rimbalzo di questo mercato potrebbe essere area 1,30 magari si può fermare prima e ci conferma che la struttura ribassista è cambiata la struttura rialzista è cambiata in una struttura ribassista se dovesse arrivare intorno agli 1,30 e qui si decide un po' la partita va bene questo per quanto riguarda Saras bene allora come vi dicevo prima io vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione vi ricordo gli appuntamenti della settimana domani avremo ai nostri microfoni Matteo Battaglia che ci farà vedere come scegliere le azioni con l'analisi fondamentale è un periodo dove il mercato ci rende un po' difficile la vita dello stock picking cioè di andare a prendere quelle azioni che effettivamente possono dare determinati rendimenti con Matteo Battaglia vedremo come l'analisi fondamentale ci può aiutare con questa scelta delle azioni l'11 maggio abbiamo la guida pratica come gestire i propri risparmi e poi concluderemo la settimana con anzi questa settimana si si è già conclusa dalla settimana prossima avremo anche i nostri microfoni Angelo Prataviera che parlerà delle tecniche grafiche per il trading tips e tricks ok bene vi ringrazio ancora per la vostra cortese partecipazione vi auguro un buon inizio di settimana una buona giornata ma soprattutto buon trading a tutti arrivederci